eccoci qua io e noemi a fare un video che non c'entra niente con i video che siete abituati a vedere sul mio canale però mi serve fare questo video perché sono bloccata proprio bloccata da quello che ci è successo in questi giorni non tutti possono capire come si sta solo chi ha avuto un animale o chi ha un animale per qualcuno potrà sembrare stupido potrà sembrare esagerato ma ogni persona reagisce in modo diverso su ogni situazione quindi non sa nessuno giudicare i sentimenti degli altri anzi penso che appunto ognuno si debba sentire libero di sentirsi come si sente mi racconto cosa è successo qualcuna di voi mi ha anche scritto perché ha visto forse l'annuncio forse l'annuncio non lo so comunque non mi sono stata a chiedere dove l'abbiano visto ma comunque sia cosa è successo il primo di novembre siamo usciti come sempre abbiamo lasciato chi era fuori come sempre al nostro ritorno chi era non c'era più come si è scappata il perché si è scappata il perché non si sa pensiamo che si sia spaventata di qualche petardo perché hanno iniziato due mesi prima di natale a sparare i petardi in questi giorni non era nei giorni precedenti non era mai successo quindi non ho dato il pensiero non ho pensato a che potessero scoppiare i petardi in questo periodo anche perché anche perché appunto non è periodo quindi non avevo proprio pensato fatto sta che chi era scappata probabilmente spaventata dai petardi e niente noi sa che erano le quattro e un quarto quattro e mezza siamo andati via l'abbiamo lasciata fuori come sempre lei tranquilla uscita quando non voleva uscire non la facevamo uscire quel giorno lì è uscita volentieri quindi abbiamo uscire siamo rientrati a casa non molto tardi erano le otto e mezza e le nove comunque più o meno siamo rientrati a casa molto tardi tornati a casa non abbiamo trovato chi era nel cancello allora subito subito perché io non so se vi ricordate ma nel periodo di capodanno due anni fa penso era successa la stessa cosa lei aveva rotto la rete l'avevamo aggiustata avevamo rinforzato le uscite c'è tutto quello che poteva essere su facebook avevano messo l'annuncio la mia amica aveva visto eravamo andata a recuperarla in canile bon tutto risolto tutto fatto allora subito cosa ho fatto ho subito aperto facebook perché con lei non potevo muovermi da casa più di tanto mio marito andato a cercarla è stato fino a notte a cercarla tutto intorno su facebook poi esce un messaggio di un ragazzo che aveva visto un cane si un cane non non aveva detto come ho visto un cane seduto sdraiato non ricordo bene le parole in questo punto qua alle dieci e mezza di sera perché io vi dico noi eravamo già in giro che cercavamo poi arrivato questo messaggio la mia amica quella che la volta precedente mi aveva detto guarda che kira è su facebook mi ha detto guarda che è arrivato questo messaggio quindi ho contattato questo ragazzo che è stato non gentile credetemi di più fa ero stanco dal lavoro fammi dispiace fa lo visto non mi sono fermato mi sono sentito in colpa adesso vado a cercarlo comunque con il suo amico sono stati in giro fino alle tre e mezza di notte a cercare kira non l'hanno trovata chi era una cagnolina che non si lascia prendere facilmente a meno che qualcuno non lo so allora nella conosciamo così che lei non si lascia prendere non si lascia toccare non si fa prendere in braccio da nessuno se non da me da me e si lascia prendere liberamente c'è in braccio da mio marito anche non è molto no non è per per il contatto fisico ecco non so come dirvi comunque fatto sta che è stata cercata fino alle tre e mezza di notte poi non faceva freddissimo quella notte quindi abbiamo pensato si fosse riparata comunque per la notte da qualche parte niente non è stata vista appunto il giorno dopo non vi dico io ho lasciato il cancello di casa aperto nel caso potesse rientrare tornare a casa niente non è tornata mio marito al mattino presto alle sei e mezza penso è tornato di nuovo a cercarle è stato tutto il giorno in giro a cercarla non l'ha trovata siamo andati avanti così sabato domenica e niente di kira nessuna traccia nessun avvistamento domenica ho tappezzato di fogli con l'immagine di kira che ha scappato il primo se qualcuno l'abbè la vedeva magari ci poteva chiamare ok niente non c'è stata neanche una chiamata solo persone curiose di sapere cosa è successo perché scappa persone curiose ci sta la curiosità però perdonatemi se una persona sta male non lo so per qualcosa perché essere curiosi di come è successo non lo so chiamami se hai delle informazioni no non mi far penso io e poi forse sbaglio poi magari uno può dire è però quando puoi passare a colare nessuno mi ha chiesto non lo so in quel momento mi dava fastidio il fatto che qualcuno mi chiedesse com'era successo perché non cambiava la situazione poteva essere successo in qualunque modo ma la situazione non cambiava quindi chiedermi come era possibile che fosse successa questa cosa a me non portava nulla e comunque a parte messaggi di persone strane anche che mi chiedevano come era successo non abbiamo avuto nessun tipo di segnalazione ci siamo affidati a una persona competente nel ritrovamento degli animali non abbiamo risolto nulla perché chi era comunque non è stata trovata la mia speranza era che la mia speranza era di trovarla in qualunque condizione non mi sa dire in qualunque condizione ma volevo sapere dove fosse finita perché così non sapere dov'è se la stanno trattando bene se la stanno trattando male è veramente brutto e questa cosa mi fa stare male quando sono fuori casa la patisco meno ma quando arrivo dentro casa delle cose quotidiane dicevo si sente la mancanza una fesseria lo scuotere la tovaglia io sono stata abituata negli ultimi cinque anni che chi era veniva e spazzolava via tutto o magari mentre mangiamo e cade un pezzettino per terra sono pronta a controllare che chi era magari se qualcosa di caldo che non lo prenda subito cioè sono tante piccole cose che nel quotidiano ti fanno pensare richiedo scusa di nuovo so che ci sono cose peggiori io sono molto fortunata perché c'è questa piccola birichina qua che mi tiene impegnata tutto il giorno e quindi mi aiuta a distogliere un po il pensiero la mia speranza forse quello che voglio pensare che succeda che chi era ritorni che ci faccia un bel regalo di natale che torni a casa e che qualcuno magari la presa non con l'intenzione di farle del male ma magari perché la vista per strada spaventata impaurita magari entrato nella sua macchina nel suo cancello non lo so e magari qualcuno la stia tenendo per accudirla non per trattarla male voglio provare ad approfittare anche di youtube che se magari qualcuno la vista mi può scrivere mi può contattare vi lascio anche sotto la mail così se avete foto da mandarmi se per caso qualcuno la dovesse vedere mi può scrivere mi può mandare foto quindi io vi lascio tutto sotto in descrizione basta andare sotto nella freccina schiacciare trovate la mia mail ma ve la scrivo anche qua se siete comodi non lo so magari qualche avvistamento per sapere dove continuare a cercarla non lo so perché stare così senza sapere veramente brutto o ho provato a chiamare appunto come vi dicevo all'inizio i canili ho provato a chiamare chi si occupa nella zona di recuperare gli animali che magari hanno avuto un incidente ho provato a chiamare dei veterinari se magari era stato sempre in zona se magari era stato portato un cagnolino fatto in quel modo che loro non conoscevano non lo so per per essere curato niente non abbiamo trovato niente come se kira si fosse veramente volatilizzata a me questa cosa mi fa stare ancora più male un conto è sapere dov'è cosa è successo anche non sapere cosa è successo no cosa è successo non vorrei sapere cosa è successo se qualcuno per sbaglio la schiacciata la seppellita nel suo giardino cioè io non lo so stare così col pensiero è veramente brutto quindi io spero che con questo video parte di uno sblocco mio perché credetemi non riesco a fare niente di diverso ok ho dovuto spostare il telefono perché noemino stava fermo un attimo dicevo questo video non serve solo per uno sblocco mio ma spero che serva anche per aiutarci a trovarla e capire dove è finita noi continueremo comunque a cercarla voglio fare anche questo video perché perché ne ho bisogno per sbloccare questo mio blocco perché ogni cosa che faccio dentro casa mi sembra inutile faccio le cose giusto perché devo farle senza pensare amore senza pensare a che cosa sto facendo quindi anche solo andare a prendere bambini a scuola tornare sono passati 15 giorni devo dire che non sto bene perché non sto bene perché chiera ci manca però iniziamo ad abituarci forse io non so al pensiero che possa non tornare forse un'autodifesa non lo so penso che non ve l'ho detto forse durante il video chi era il microchip quindi io ho chiamato i canili ho chiamato i veterinari chiedendo se era stata microchippata trovata mi hanno risposto tutti che se arriva un cane con il microchip nei canili comunque vengo contattata perché il microchip la riporta il microchip la riporta a noi quindi in automatico ci contattano come avete visto Noemi è iniziato a camminare sono piccoli progressi che non avete visto perché in questi giorni appunto per me è stata così c'è stato il compleanno di Endry che non abbiamo festeggiato perché erano pochi giorni da quando era andata via Kira e ci faceva star male quindi non eravamo nello spirito per festeggiare mi è dispiaciuto per Endry ho organizzato una merenda con 4-5 amici al McDonald li ho portati lì io che sono quella che prepara i sacchettini per la classe per il basket per quello per l'altro non ho fatto niente giusto perché proprio era il compleanno di Endry per non fargli pesare ancora di più la situazione ho preso un kinder per i bambini a scuola e basta non ho fatto neanche pacchettini cose particolari ma questo video a me serve per rincominciare a fare le cose di sempre mi sembra giusto mettervi al corrente di queste cose sia perché so quanto ci tenete a noi come famiglia e quindi in automatico anche Kira mi sembra giusto darvi anche la spiegazione della mia assenza anche se vi ho caricato il video dopo qualche giorno dopo un po' di giorni, Kira era già scomparsa, scappata, scomparsa è brutto Kira era già scappata e io dopo ho pubblicato il video che era già pronto comunque nella vita di tutti i giorni dobbiamo andare avanti per forza quindi cerchiamo di andare al meglio di cercare di superare questa cosa la mia speranza vi ripeto è che torni però dobbiamo riprendere la vita normale e fare uno dei miei soliti video pulizia o dove vi propongo qualche prodotto o che sia e non avervi fatto questo video a me sembrava sbagliato perché sembrava non dare importanza alla nostra cagnolina che comunque è stata con noi 5 anni parte della nostra famiglia mi sembrava veramente metterla nel dimenticatoio, non mi piaceva e quindi ho voluto proprio fare questo video, non sono riuscita a farlo subito perché non mi sentivo sono sicura che però piano piano andrà meglio Kira rimarrà sempre nei nostri pensieri nei prossimi video se non ho aggiornamenti non parlerò di Kira perché mi fa stare male e chiudo qua il discorso Kira non perché appunto non mi interessi ma perché non riesco a parlarne e quindi solo per questo, per stare meno male io vi dico solo ancora come non reggite i bambini perché magari me lo chiederete i primi giorni i bambini come se non fosse successo nulla perché loro Kira si la vivono ma non come la viviamo io e mio marito forse quelli che sono stati più male i primi giorni siamo io e mio marito i bambini però non vi nego che dopo qualche giorno hanno iniziato a sentire la mancanza perché anche loro le piccole cose, il salutarla la mattina sul divano, cioè tante piccole cose a loro sono iniziate a mancare quindi diciamo che tutta la famiglia sta vivendo e non solo noi come famiglia anche le mie zie, mia sorella, mio papà, mia mamma, tutti quelli che ci stanno intorno sanno quanto volevamo bene a Kira e di conseguenza stanno tutti male quindi questo video per non parlarne più a meno che io non abbia belle notizie e niente adesso io chiudo con questo video vi lascio qualche immagine penso di mettere qualche immagine di Kira anche durante il video così se chi guarda il video la riconosce da qualche parte o la vede con qualcuno per favore vi chiedo veramente scrivetemi in bene e in male che sia ma solo cose come si dice vere quindi non un cane che gli assomiglia cioè piuttosto una foto la foto è importantissima perché si possono mettere a paragone le macchie di Kira ci sono tanti cani come Kira Kira era unica però tanti cani che possono assomigliare a Kira la speranza di trovarla mi ha fatto pensare che un cagnetto fosse lei ho detto vabbè una macchia buh non lo so magari non l'ho vista bene no poi sono andata a verificare la foto di Kira proprio perché presa dalla foga e dalla voglia di ritrovarla per me quella era Kira ma no non era Kira quindi le foto sono importantissime per Kira per qualunque animale che scappa se vi trovate per strada e anche non è Kira trovate un cane che gira da solo e non siete abituati a vederlo perché comunque cani randaggi ce n'è fate una foto non vi costa niente mettete su Facebook ci sono cani smarriti ci sono tanti siti dove poter mettere le foto di cani, gatti di qualunque animale smarrito comunque più che altro sono cani e gatti perché veramente credetemi aiutate chi sta cercando un animale sono tanti gli animali che scappano non voglio fare l'animalista però è proprio vero finché non ti tocca lo senti meno sembra che tutte le cose possono succedere agli altri mai a te quando poi ti succede dici cavolo allora può succedere anche a me ecco purtroppo nel mio caso è così quindi qualunque cane avvistate se avete tempo anche se non avete tempo abbiamo sempre il telefonino in mano facciamo una foto piuttosto scrivere il giorno e dove è stato trovato dove è stato avvistato il cane o il gatto che sia e può aiutare veramente chi sta cercando il proprio animale domestico a ritrovarlo e niente voglio dire questa cosa quindi niente chiudo il video vi lascio qualche altra foto o pezzettini di video dove si può vedere meglio Kira e niente io spero di vedervi in un prossimo video con un po' di leggerezza vi salutiamo ciao grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti